ada alberti è tornata con le previsioni astrologiche per la settimana dal 13 al 19 maggio 2024 nella sua rubrica su mattino 5 notizie belle dalle stelle ha svelato cosa ci riserva il futuro prossimo per gli ariete è un momento favorevole per perseguire i propri progetti con il supporto di giove che si farà sentire presto i toro possono sfruttare il favore di mercurio per portare avanti idee importanti i gemelli devono agire e fare il primo passo soprattutto in questioni rimandate i cancro riceveranno aiuto durante la settimana soprattutto venerdì i leone affronteranno sfide importanti richiedendo abilità e diplomazia soprattutto martedì la vergine può aspettarsi ottime opportunità amorose e matrimoniali per la bilancia persistono tensioni relazionali da risolvere lo scorpione dovrà prendere decisioni importanti specialmente in amore gli ariete vivranno momenti piacevoli ma dovranno fare scelte cruciali venerdì il capricorno ha un periodo favorevole per il lavoro creativo e le cure estetiche l'acquario affronta spese domestiche ma può contare sull'aiuto di giove infine i pesci dovranno impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi con il supporto di giove fino alla fine del mese e Grazie.